Sin dal suo esordio il Festival di Sanremo ha segnato la storia della musica italiana passando per periodi storici distinti, canzoni iconiche, scandali e momenti memorabili. In una serata intrisa di melodia e nostalgia, Piero Tarantola e Ugo Buizza hanno guidato l'incontro tenutosi presso l'Istituto Italiano di Cultura di Londra. Due ore di musica e risate, anche malinconiche, un vero e proprio viaggio attraverso i meandri della nascita del Festival e i suoi sviluppi nel corso dei decenni. Sanremo e Sanremo, Sanremo ferma il paese e questa volta ferma anche Londra nel senso che oggi in questa capitale europea siamo qui a raccontare, a vivere, a sentire suoni e anche storie di una manifestazione che parte di noi, che parte della nostra storia, della nostra cultura e che è bello condividere con gli italiani che stanno qua e chissà anche con qualche inglese e che magari è interessato a scoprire quello che è la nostra canzone italiana. Su stasera direi che sono quasi più curioso io, penso, del pubblico per sapere la reazione che avranno perché so che molti italiani a Londra magari Sanremo è un ricordo lontano. Noi racconteremo degli aneddoti proprio per rivitalizzare l'interesse e credo forse anche ci riusciremo. In ogni caso è importante perché comunque come da sempre Sanremo fa parte proprio del costume italiano con una bandiera nazionale nel bene e nel male, sottolineiamolo. Su stasera siamo molto interessati di vedere come il pubblico, possiamo dire, di Londra, gli italiani di Londra reagiscono alle cose che noi raccontiamo su Sanremo perché in Italia Sanremo ormai è pane quotidiano per tutti. Tutti lo guardano, anche quelli che dicono che non lo guardano. Per cui vediamo cosa succede stasera. Sono molto interessato a vedere cosa ne pensano gli italiani a Londra. Dalla prima edizione fino all'ultima dello scorso anno il Festival di Sanremo ha accompagnato generazioni di italiani, ognuno dei quali ha una canzone che indubbiamente gli è rimasta nel cuore. Maledetta Primavera, la cantava sempre la buonanima della mia nonna, nonna Marietta, che era innamorata di questa canzone che poi alla fine peraltro non ha mai vinto il festival. E ricordo come se fosse ieri la povera nonna che era arrabbiatissima. Ma com'è possibile che una canzone così bella alla fine non l'abbia poi vinto? Secondo me sta tutto in quella parola maledetta, che è lì, che incombe su questa canzone quasi come una maledizione. E per ora è stata veramente bella. Sicuramente ero piccolina, ma un'avventura di Lucio Battisti io mi sono innamorata perdutamente di lui. Volevo solo mettere le sciarpette. L'ho amato e da loro l'ho amato sempre. Il mio ricordo, ce ne sono tanti, perché io ho cominciato a guardare Sanremo fin da quando ero bambino. Però il ricordo è sicuramente, cosa posso dire? Una cosa è una cosa drammatica che è il suicidio di Luigi Tenco che tutti ancora ricordiamo. Ma poi ci sono state tante cose, anche buffe. Che so, ti ricordi quello che voleva buttarsi giù dalla balconata o gli orchestrali che buttavano gli spartiti sul palco per protestare. Tante cose sono successe a Sanremo. Quindi è difficilissimo dirlo, ormai sono più di 70 anni che c'è. Beh, quello che sento più in assoluto è ciao amore, ciao. Ma perché l'ho proprio vissuto, cantandolo lo vivo, come una persona che comunque è partita anche da un paese piccolo. Quindi tutti questi ricordi di un po' di campagna, non diretti, però risuonano molto. E amo Tenco, sì, è uno dei miei cantautori preferiti. Il ricordo più caro sono, soprattutto quando ero bambino, perché rimanevo alzato fino a tarda ora per guardarlo, quindi non andavo a letto dopo Carosello, come si faceva una volta, e memorizzavo le canzoni e poi il giorno dopo mi compravo dei libricini che vendevano, piccolini, dove c'erano i testi delle canzoni e io in cameretta cantavo le canzoni facendo finta di avere il microfono. Ed era uno spasso, anche perché sono stonato. L'Istituto di Cultura per una sera ha fatto da sfondo ad un vero e proprio viaggio nel tempo, attraverso canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, alcune delle quali magistralmente cantate da Susanna Paisio. Tanto colgo l'occasione per ringraziare Ornella Tarantola e l'Istituto Italiano di Cultura per l'organizzazione di questo evento stupendo, penso che avrà il plauso di tutta la comunità italiana a Londra. E mi è stato chiesto di arrangiare, di suonare tre pezzi top di Sanremo che sono Ciao Amore Ciao, Maledetta Primavera e Nel Blu Dipinto di Blu. Dopo la musica, l'Istituto Italiano di Cultura di Londra si prepara a promuovere il grande cinema italiano. Preparatevi a vivere From Venice to London. Da giorno 8 abbiamo tutti i film più belli di Venezia che verranno proiettati in prima assoluta in Inghilterra qui a Londra grazie all'Istituto e grazie a un accordo che abbiamo stretto a suo tempo con la Biennale di Venezia. Non ve lo perdete perché è veramente una cosa assolutamente unica e ha senso vederli. La serata è stata un vero successo ed ha visto i presenti fare davvero comunità uniti dai ricordi di canzoni intramontabili. Amato o criticato che sia, il Festival riesce sempre ad unire tutti gli italiani, anche quelli che si trovano all'estero, perché Sanremo è Sanremo. Innamorato, sempre di più, mi porto all'anima, sempre di più, perché non è una promessa, ma è quello che sarà. Segui Complitaly sulla tua Google TV o sul tuo telefonino cercando nello store Complitaly Plus. Seguici sui canali social di Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn e TikTok oppure sul nostro sito www.complitaly.uk Regalaci un like, seguici e contribuisci a far crescere la tua televisione italiana nel Regno Unito. Complitaly TV, il tuo canale, sempre.